Urge nomina commissario alla sanità e non perché ci sia De Luca pronto a rivestire quel ruolo, ma perché l'intero sistema dell'assistenza rischia di collassare senza i decreti del commissario. Nessun altro può sostituirsi. La Campania è una regione soggetta a piano di rientro dal deficit e tutto quello che ruota intorno alla sanità, dai piano ospedalieri ai concorsi per le nuove assunzioni fino alla definizione dei tetti di spesa, deve essere deciso da un commissario. De Luca lo ha ribadito poche ore dopo aver saputo che sulla sua nomina è arrivato l'ennesimo veto politico, ma il governatore ha deciso di non andare allo scontro con il governo, tantomeno con il ministro Lorenzi in espressione di alternativa popolare e di quei alfaniani che hanno alzato il cartellino rosso. Tiene il profilo basso De Luca. Culturalmente sono fra quelli che legano il proprio destino alle proprie mani, io non mi aspetto mai niente da nessuno. Intanto partono oggi i primi ricoveri formali all'ospedale del mare, in totale posti letto disponibili saranno 91. Da lunedì sono previsti anche i primi interventi chirurgici. Nelle stesse ore però arriva anche la notizia dell'ennesima indagine della finanza che ha eseguito controlli a tappeto in 13 strutture sanitarie private di riabilitazione distribuite nelle tre asle napoletane. Ai raggi X dei finanzieri ci sono i rimborsi ottenuti dai centri privati e pagati dalle asle per le prestazioni rese ai utenti. Si indaga su pagamenti non dovuti e un potenziale danno alle casse pubbliche di quasi 100 milioni di euro. Ma a fronte di una sanità privata collusa e truffaldina c'è anche una sanità privata in crisi. Quella dei centri accreditati che si occupano dei disabili che hanno protestato ieri davanti alla regione a causa dei tagli e delle prestazioni. Dal primo luglio abbiamo un taglio prestazionale sui volumi di attività che sfiora tra il 16 e il 20 per cento con le conseguenze indotte sui cittadini assistiti che dovranno essere dismessi e sui lavoratori che nutreremo grandissime difficoltà per loro.